Nuova luce per piazza indipendenza a Pomezia. La Giunta Comunale ha deliberato il progetto relativo ai lavori di riqualificazione dell'illuminazione pubblica. L'intervento, del valore di circa 170.000 euro, è finanziato totalmente grazie ad un contributo del Ministero dell'Interno e prevede il ripristino dei lampioni abbattuti e l'efficientamento degli impianti con tecnologia LED. Inoltre saranno illuminate artisticamente la torre civica alle facciate del Palazzo del Municipio e della Chiesa Parrocchiale di San Benedetto. Con questa iniziativa restituiamo alle costruzioni del nucleo di fondazione una lettura della loro architettura che rappresenta la storia della nostra città, ha dichiarato l'assessore Federica Castagnacci. Le nuove lampade di ultima generazione contribuiranno a valorizzare gli edifici storici del centro e allo stesso tempo consentiranno un risparmio energetico di circa il 50%, oltre a una manutenzione dell'impianto più agile ed economica, ha aggiunto il sindaco Adriano Zuccalà.